Ciao a tutti, sono Luigi Di Maio, 23 anni, studio giurisprudenza da Federico II. Sono sempre stato affascinato dall'impegno politico, sia al liceo che all'università che nell'associazionismo, mi sono sempre proposto, ho sempre voluto metterci la faccia. Sono stato presidente del consiglio alla facoltà di giurisprudenza, nei licei sul territorio abbiamo organizzato varie iniziative, ma poi mi sono fermato, perché mi sono accorto che mi sentivo solo. Il meccanismo secondo il quale il rappresentato delegava il rappresentante faceva in modo che eravamo sempre in pochi, a decidere per tanti. Quando abbiamo avviato l'esperienza del Meetup si è respirata subito un'altra area, non c'erano delegati, non c'erano rappresentanti, non c'erano capi bastone, non c'erano segretari, c'erano solo le iniziative e tante persone che decidevano in equal modo intorno a quelle. Per questo mi candido nel Movimento Comigliano 5 Stelle, perché sono convinto che comunque andranno queste elezioni farò parte di un gruppo, un network, in cui tutti decideranno ugualmente rispetto alle iniziative da mettere in cantiere. E sostengo Luca Enrico, il terminale di questo network, a sindaco della mia città. Grazie per la visione!